Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Spada Come vi avevo detto alla fine delle mie streaming e alla fine dell'explay della trama principale in questi giorni vi avrei portato dei video riguardanti alcune parti del post-game che aggiungevano dettagli di lore al gioco Permetto da subito che non inizierò a fare video guida su come ottenere un determinato Pokémon o su come insegnare una determinata mossa perché non è il mio genere di video, non sono in grado di farli per bene e soprattutto non è quello che voglio fare Tutto quello che del post-league vi mostrerò ha insito in sé un elemento di lore più che un elemento di gameplay Di conseguenza quest'oggi stiamo davanti alla Rose Tower a Gold Week per vedere che cosa succede nel momento in cui una volta terminata la trama principale e dunque una volta sparito dalla circolazione il presidente Rose si giungerà o meglio si tornerà alla sua torre e dunque alla sua proprietà Ovviamente io so già che cosa avvia qua dentro perché per portarvi questo contenuto ho dovuto sapere effettivamente che c'era qualcosa di interessante Sta di fatto che non perderei ulteriore tempo e direi di entrare adesso all'interno della Rose Tower o per meglio dire della torrellotta perché sì Nel post-game la Rose Tower diventa la torrellotta per un dettaglio molto ma molto interessante che adesso vi faccio vedere Parlando con questo NPC ci verrà spiegato il motivo per cui la Rose Tower è diventata ciò che è adesso Dundell è davvero il migliore acquisito la Rose Tower e l'ha trasformata nella torrellotta dei suoi sogni Adesso che non è più campione si dà da fare per aiutare gli allenatori di Galar a diventare più forti E' anche per questo che lo ammiro E dunque signori la torrellotta entra all'interno della lore di Pokémon Spesso e volentieri per non dire sempre la torrellotta all'interno dei giochi Pokémon E' stata un po' bisfrattata dalla trama Di solito era un luogo totalmente esente dagli eventi del gioco In questo caso non solo è legata alla lore principale ma ne è anche una conseguenza diretta Il che è molto ma molto interessante Peraltro non è l'unica cosa di interessante al suo interno Perché sarà possibile ottenere pensate un po' anche tipo 0 Purtroppo io l'ho già ottenuto perché ho fatto una registrazione prima di questa Ma l'audio mi ha tirato un brutto scherzo In sovrimpressione vi metto le immagini del gameplay precedente in cui ottengo tipo 0 Che è ottenibile parlando con questo NPC in particolare Che ci darà tipo 0, ci darà le ROM Ma ciò che è davvero interessante a mio avviso è la descrizione del Pokédex Eccoci qua, Pokémon Multigene al Tetsu Metro 9 Si dice che sia stato ricreato nuovamente a Galar Sulla base di documenti top secret trafugati Questo vuol dire, se seguiamo la lore di settima generazione Che Rose o almeno le sue aziende sono in contatto con Alola E soprattutto da Alola hanno trafugato dei documenti Che hanno permesso la ricreazione di tipo 0 Ora, siccome il mio canale si basa sulla lore Quest'oggi andremo sì a provare la torrelotta Perché voglio farvi vedere delle piccole chicchette E soprattutto voglio dirvi un'ulteriore cosa Ma prima di proseguire Io prendo tipo 0 e vado a evolverlo in Silvalli Per vedere a questo punto che cosa dice la descrizione di questo Pokémon Peraltro, nel mentre che sono nel box e che prendo tipo 0 Tra l'altro sì, ho Cramorant a livello 100 Vi mostro anche un dettaglio che forse potrebbe esservi sfuggito Perché il mio Grimmsnarl possiede la lastra Spiritello Che attualmente è l'unica lastra di Arceus Che ho rinvenuto in questo gioco Peraltro un gioco in cui Arceus non c'è Ora non c'è Arceus Tipo 0 ha risubito un'altra lore Insomma, voglio dire Qualche riferimento ad Arceus c'è Qualche riferimento alla quarta generazione c'è Resta da capire un po' il perché della lastra Spiritello Comunque sono dettagli che tratterò più approfonditamente in altri video Peraltro vi ricordo che nonostante stiano uscendo questi video Torneranno a partire da domenica, sperando che io faccia in tempo I classici contenuti del canale Quindi green screen, musichette e tutto molto bello Ok signori, eccoci qua Gli ho dato un po' di bacche per aumentare l'amicizia L'ho fatto salire di un livello con la caramella rara Peraltro poi resetterò per non perdere quegli strumenti E mi farò Silvalli per conto mio Ma signori, ecco qui Tipo 0 si evolve in Silvalli E a questo punto sono davvero curioso di vedere Che cosa dice la descrizione del Pokédex Lo strato legame con il suo allenatore ha risvegliato il suo potere nascosto Può cambiare tipo a suo piacimento A quanto pare no A quanto pare no Solo tipo 0 Ha un'accezione diversa all'interno di questo Pokédex Sta di fatto che viene comunque citato Il fatto che possa cambiare tipo a piacimento con le ROM E va bene, ci può stare Del resto a ben pensarci tutto ciò ha senso Visto che il clone di Archeus è effettivamente tipo 0 E Silvalli è la sua evoluzione Qualora dovesse avere amicizia con l'allenatore Quindi effettivamente abbiamo fatto un tentativo un po' pretestuoso Ma ci stavo a controllare Peraltro ragazzi, avendo riavviato il gioco Volevo farvi vedere questo Il fatto che nel menu principale Una volta sconfitta la Lega Appariremo noi nello stadio di Rose Con il team che è stato registrato In quella che ipoteticamente in altri giochi Sarebbe la sala d'onore Niente di eccezionale Solo un piccolo dettaglio Che tanto che c'ero vi faccio vedere Bene signori Ora senza soffermarci Sulla torre lotte in particolare Su tutte le feature Ci sono molte feature all'interno Che favoriscono il competitivo Questa torre lotta è un filino diverso dalle altre Intanto è più complicata soprattutto all'inizio E poi è una fusione con quella che è l'azienda lotta vecchia Per chi se la ricorda Infatti da questo NPC È possibile scegliere delle squadre anolo Io attualmente ne ho già scelta una Ho scelto la squadra Flemma Parlando con questo personaggio Sarà possibile registrarsi alla torre lotta E affrontare un po' di sfide Sono già a un upgrade in lotte in doppio Come potete vedere la differenza tra 1 e 3 Ed è data dal numero di vittorie Che sono oggettivamente poche Infatti vedete ho giocato solo 4 partite Sta di fatto che ci tengo a farvi vedere Questa torre lotta Perché è molto 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 carina Questa è la nostra squadra anolo Non l'ho costruita io Quindi la seleziono E direi di andarci a giocare una partita Eccoci qua signori Allora onestamente speravo che la torre lotta Si sviluppasse su quell'ascensore Che abbiamo visto all'interno della trama Così da dare un senso effettivo Sta di fatto che non è così Si svolge dove abbiamo sconfitto Olive Mi piace molto la location E soprattutto si potrà utilizzare il Dynamax In quanto ovviamente la torre di Rose Come sappiamo è un punto energetico E come potrete sentire di sottofondo È proprio all'interno della torre lotta Che vi è la team composta da Toby Fox Giusto per chi se lo stesse chiedendo Qui il Fish Lifion Noi mandiamo Torkoal e Oranguru Oranguru ragazzi andrà di Distortozona Questo qui è un team basato proprio sulla Distortozona E Torkoal farà il suo sporco lavoro Andando a utilizzare le sue classiche mosse Quindi o da calda eruzione e solar raggio Torkoal andrà di protezione al primo turno Oranguru utilizzerà Distortozona Vediamo come va Entrà la Distortozona Quindi al prossimo turno Oranguru e Torkoal attaccheranno per primi Peraltro Oranguru utilizza il Distorto Servizio Che gli permette di diminuirsi la velocità sotto Distortozona E dunque di essere più veloce al suo interno Ovviamente qui il Fish evita l'attacco Comunque signori questa Torelotta come potete notare Inizia subito con i Pokémon un po' più forti Ovviamente se si è un minimo abili a sfruttare le strategie Come potete vedere il game almeno inizialmente è molto molto semplice Peraltro vi porterò più avanti anche un video contro il boss della Torelotta che c'è Io so già chi è Non ve lo spoilerò anche se immagino sia intuibile Sa di fatto che voglio vedere se ha della lore Perché effettivamente le premesse sono quelle che sono Con Oranguru andiamo di imposizione in modo tale che Torkoal possa svolgere doppia eruzione E quindi se toglie un 50% adesso Togliere anche un 50% più avanti Peraltro è più di 50% E la battaglia ce la portiamo a casa Non che fosse indispensabile mostrarvela Ma perlomeno vi ho fatto vedere anche l'ambiente della Torelotta Interessante gli elementi di lore al suo interno Soprattutto interessante l'elemento di lore di tipo 0 Che come vi ho mostrato anche in relazione alla lastra Folletto Aggiunge implicitamente un po' di quartagena al suo interno Otteniamo 2PL E signori direi che posso uscire attualmente dalla Torelotta E ringraziarvi per la visione Io spero che il video vi sia piaciuto Se è così invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale Vi ricordo che ci saranno anche altri contenuti Oltre a questi video E saranno i classici contenuti di questo canale Quindi tenetevi forte Perché ho un po' di critica lit e di video Riguardo Spade Scudo e Nonna Per il resto vi invito ovviamente a passare dai social E a premere la campanella E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video Ciao